Le elezioni 2013 hanno rappresentato uno spartiacque nella vita politica italiana. Alla sua prima prova nazionale, il Movimento 5 Stelle ha superato il 25% dei consensi, affermandosi come lista più votata. Fondato nel 2009 da Beppe Grillo, il nuovo movimento ha così sconvolto gli equilibri di un sistema congelato dal 1994. Quali sono le ragioni del successo pentastellato? Il Movimento 5 Stelle è una meteora o è qui per restare? È realmente così diverso dai partiti tradizionali? L'Anzone offre una risposta organica a queste domande attraverso una ricerca ricca di dati originali. Il Movimento 5 Stelle, il popolo di Grillo dal web al Parlamento, è uno strumento prezioso per chiunque si è interessato a una descrizione non banale delle vicende italiane. Acquistalo su Amazon o direttamente sul nostro sito web www.edizioniepoche.it www.edizioniepoche.it Al prossimo episodio